Sappiamo che molti alieni di finzione assomigliano a tutto e per tutto esseri umani, ma lo sapete il perché personaggi come Superman, Wonder Woman, Stella Rubia e persino Son Goku nonostante siano alieni oppure non umani assomigliano a essere umani? Pare che la motivazione potrebbe essere i costi di produzione oppure l'immaginazione nel dare un po' di umanità agli alieni. Inoltre questo non solo vale per i Viltrumiti di Invincible, ma anche con Superlopes e tanti altri, per rendere da un aspetto simile ad un umano per non spaventare o dare un'impressione strana ai veri umani. E quindi con il video è tutto gente, auguro il meglio per il futuro.